Una gara giocata benissimo dal primo all'ultimo minuto, il Napoli che tutti ci aspettavamo è arrivata questa grande risposta stasera. Sì, è stata una grande prestazione di tutta la squadra, una vittoria meritata e siamo molto contenti di questo. Senti, è stata la partita perfetta forse, qualcuno ha detto? Ma si può sempre migliorare, però sicuramente ci dobbiamo godere questa vittoria perché abbiamo battuto la capolista, la rivale storica del Napoli, siamo orgogliosi di questo. Sicuramente in crescendo, ci hai provato in tutti i modi, prima l'arbitro e poi un grande buffon, ti hanno privato della gioia del gol? Sì, sì, ma sono contento che le ultime partite sono state positive, questo è importante per me e per la squadra. Marco, quanto è stato importante anche per i tifosi napoletani? Noi li abbiamo ascoltati, la classifica forse non cambia, ma cambia molto il vostro umore e cambia molto anche il tipo che avete avuto stasera. Sì, è sempre conto a quello che facciamo noi in campo e se facciamo bene i tifosi ci aiutano alla grande. Però, come ho detto, oggi la prestazione è stata fantastica e vogliamo continuare così e vediamo se arriviamo al secondo posto.